Oggi vi presentiamo delle pistole davvero particolari della VE, che possiamo vedere come espande sempre di più il suo catalogo per coprire tutte le tipologie di pistole che ci sono sul mercato. Abbiamo la Makaro, che è appunto la pistola russa, che possiamo vedere anche nei dettagli del carrello delle scritte che troviamo sulla stessa. È smontabile, quindi apriamo e possiamo smontare il carrello per lubrificare bene le nostre parti. Il corpo è in pulimero mentre il carrello è in metallo. Quindi Makaro. Abbiamo il nostro caricatore sempre a green gas e in questo caso abbiamo la sicura, il carrellamento e spariamo. Viene dotata la pistola, anche un silenziatore da montare sulla stessa, con un prolungamento di canna interno. Quindi possiamo aumentare la precisione della nostra pistola una volta smontato lo spignifiamma rosso. Vi consigliamo prima di svitare questo di andare con un fuono per scaldare appunto la colla interno perché sennò non vi avrebbe liberamente il parafiamma rosso. E questa è la pistola Makaro. Dopodiché nel catalogo abbiamo anche la replica della Beretta 315, che possiamo vedere che anche questa è una replica davvero singolare che possiamo trovare nel loro catalogo e in metallo, scarellante con la sua sicura che possiamo trovare all'interno. Sempre valvola a green gas che inseriamo e anche qua troveremo il blocco del carrello. sgancio del caricatore. Quindi davvero un catalogo davvero immenso della VE con un dettaglio veramente particolare nelle loro repliche e una qualità che a loro costo non si trova da nessun'altra parte. Grazie a tutti.